Siamo in caserma, il comandante passa davanti all'alzabandiera dove ci sono tutti i militari, tutti schierati, prende la rincorsa e dà un calcio proprio nelle parti intime a uno di questi soldati. Soldato, hai sentito dolore? Signor no, signore! Perché? Perché sono un soldato del primo reggimento Alpini di Bolzano! Bravo! Prende la rincorsa, vado a un altro soldato, un altro calcio nelle parti intime. Soldato, hai sentito dolore? Signor no, signore! Perché? Perché sono un soldato del primo reggimento degli Alpini di Bolzano! Bravo! Dopo un po', prende la rincorsa, un altro calcio, un altro soldato. Boom! Hai sentito dolore, soldato? Signor no, signore! Perché? Perché l'ha dato a quello che è dietro di me!